10 sinistra 5 in destra 5 e a sinistra 4 in destra 5 più 50 la casa sinistra vai 10 subito tornante destro 30 destra piena per destra 5 più in sinistra 5 in destra piena 30 sinistra 5 non lunga subito subito tornante sinistro subito subito tornante sinistro destra 4 vai 30 sinistri tornantino destro 50 sinistra destra piena in sinistra 4 per sinistra 3 per destra 3 più 10 sinistra 3 apre 50 vedi sinistra 4 più in destra vai 20 inversione sinistra 100 fino a 1 destra lunga lunga piena 50 è piena e alla destra lì in fondo sciega a sinistra per 3 100 wow destra 5 chiude 4 alla pianta poi apre chiude 4 alla pianta poi apre 100 vedi sinistra 5 sconnessa per sinistra 5 più 50 pianta a destra 5 per sinistra piena lunga lunga e vedi palo attenzione destra 4 meno no lunga 4 meno no lunga per sinistra 5 più mi raccomando 150 sinistra 4 meno no 4 meno no in destra 3 più in sinistra 3 più vai 20 destra in sinistra 4 destra 4 apre 5 50 rosso destra 5 scende 20 e attenzione sinistra 3 3 e destra 5 chiude 4 20 al ponte sinistra 3 gira 50 attenzione destra 3 meno meno 3 meno meno destra in sinistra 3 meno meno per destra 3 subito sinistra 2 destra 3 gira apre ultima pianta 100 apre vai cancello sinistra 5 e destra piena occhio interno 100 vedi shikan destra 3 per 3 30 destra sinistra 4 e la chiesa destra 1 per sinistra 1 in destra vai occhio interno 50 destra 5 in sinistra 5 in destra vai 50 100 destra e sinistra piena 20 sinistra 5 meno lunghina subito sinistra 2 lunghina subito 2 per destra 3 per sinistra 2 in destra 1 gira secca per rail sinistra 2 apre 20 destra 3 lunga lunga tieni per sinistra 4 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 4 6 Grazie a tutti.